buongiorno oggi missione lidl speriamo di trovare quello che cerco pronti per la missione lidl ciao a tutte ragazze bentornate nel mio canale stasera volevo farvi vedere quello che avevo comprato alla lidl volevo farlo subito dopo tornata dalla lidl ma ho fatto molto tardi e quindi non non avuto la possibilità di girare il video stasera mi ero promessa di girarlo ma sinceramente non non me la sento poiché stasera in francia si è è accaduto un atto terroristico sono abbastanza sconvolta nella mia faccia lo potete vedere non me la sono sentita quindi di girare il video perché voglio essere nel mio piccolo vicina ai francesi voglio essere solidale con con i francesi voglio abbracciare questa nazione e il pensiero che in questo momento ci siano queste persone tenute in ostaggio che sanno che molto probabilmente non ce la faranno perché a quanto pare pochi minuti fa è arrivato un messaggio di uno di questi ostaggi dicendo che i terroristi diceva questo questo ostaggio che gli stavano uccidendo uno ad uno poi c'era la problematica anche di alcuni bambini rinchiusi in alcuni locali perché comunque la sicurezza non fa uscire nessuna nessuno nessuno appunto dai locali dai ristoranti non si vuole non si vuole giustamente che le persone non scendano giù per la strada insomma c'è una situazione veramente veramente terrificante io come mamma mi sento in questo momento morire il solo pensiero di pensare che uno dei miei figli possa essere in una di quelle situazioni io morirei niente per questa sera non farò video ne ho montato uno ma è stato praticamente nel corso della della condivisione su youtube è successa questa cosa bene ragazze avevo proprio voglia di dirvi che in questo momento mi sento molto vicina al popolo francese non dirò la mia per quanto riguarda la politica perché succedono queste cose eccetera perché sarai molto cattiva quindi vorrei evitare quindi per stasera nessun video per quanto riguarda lidl vediamo domani come andrà la giornata domani ne farò una vi farò vedere quello che ho comprato e niente vi mando un grosso bacio e viva la france buonanotte